Tutto era incominciato nel gennaio 1943, una storia che riguardava l'America e la Sicilia. Sarima degli americani, andiamo! Andiamo! Che bisogna cede mettere mano alle armi quando siete in mezzo all'amici? Se tu vuoi parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano. È fatta. Dove abita? In Sicilia. In Sicilia in questo momento c'è soltanto la seconda guerra mondiale in corso. I assure you guys, not to be dangerous! Non è come sembra, non è come sembra. Non c'è nulla tra noi tre. Come avete detto che vi chiamate voi? Giammaresi, Arturo Giammaresi, Ducaro. Bravo. Grazie. Ma chissolo. Pensaci tu. Cari amici, è una giornata speciale, perché grazie all'amici americani, a Crisafullo è arrivata la democrazia. Non lo capisci quello che sta succedendo? Cosa sta succedendo? Anche io sono in guerra per amore. e a Crisafullo è arrivata la democrazia, a Crisafullo. Zagullo è arrivata la democrazia, a Crisafullo. Non è poi connesso dietersi. Hai da dormire, e a Crisafullo è arrivata la democrazia, a Crisafullo è arrivata la democrazia, ma l'amici. Non ha detto che non erano, ma come una cosa.